fedez chiara ferragni si sono lasciati questa è la notizia dietro si cielo un mondo e per qualcuno non è tutto come sembra in tanti si sono chiesti se dietro questa crisi o presunta tale non si cieli una strategia ben precisa tra questi anche la giornalista paola ferrari alla quale ha rilanciato lo scoop di dagospia chiedendosi se l'addio sia reale oppure no e se fosse tutta una mossa per distrarre l'attenzione sul pandoro gate e tutte le altre inchieste intanto per aspettare una posizione ufficiale dei due probabilmente si dovrà aspettare domenica 3 marzo quando chiara ferragni sarà ospite di fabio fazio che tempo che fa secondo i rumors sarebbe fedez quello che ha fatto il passo d'addio lasciando il tetto coniugale nelle ultime ore è arrivata anche l'analisi della nota agenzia di analisi sense makers che ha approfondito la situazione di come chiara ferragni stia perdendo continuamente followers nonostante il calo nelle interazioni registrato a dicembre gennaio la fan base di entrambi gli influencer sembra rimanere fedele il profilo di chiara ferragni mostra una stabilità nel numero di seguaci senza variazioni significative inoltre confrontando i dati di gennaio rispetto all'anno precedente si nota addirittura una crescita con un aumento del 2% della fan base per fedez e del 4% per chiara ferragni iscriviti al nostro canale